Facciamo il primo spazio romantico di questo pomeriggio, facciamo ballare una canzone stretti stretti perché è una delle vostre richieste e arriva l'universo. Il primo spazio romantico di questo pomeriggio è una delle vostre richieste e arriva l'universo. Il primo spazio romantico di questo pomeriggio è una delle vostre richieste e arriva l'universo. Il primo spazio romantico di questo pomeriggio è una delle vostre richieste e arriva l'universo. Il primo spazio romantico di questo pomeriggio è una delle vostre richieste e arriva l'universo. Il primo spazio romantico di questo pomeriggio è una delle vostre richieste e arriva l'universo. Il primo spazio romantico di questo pomeriggio è una delle vostre richieste e arriva l'universo. Il primo spazio romantico di questo pomeriggio è una delle vostre richieste e arriva l'universo. Il primo spazio romantico di questo pomeriggio è una delle vostre richieste e arriva l'universo. Il primo spazio romantico di questo pomeriggio è una delle vostre richieste e arriva l'universo. Il primo spazio romantico di questo pomeriggio è una delle vostre richieste e arriva l'universo. Il primo spazio romantico di questo pomeriggio è una delle vostre richieste e arriva l'universo.